E come ho spazi alle rubriche settimanali Novis Dalmont? La sua fama è di fatto che aveva scugnato di puri essi in frazione di cività, per colpe dalla prima guerra mondiale. Dopo tornata in Friul, alla tornata partinta al 1930, arrivata a Terob a Vincenzo. Di che il momento l'ha sempre rilavorata, latiere, diventante imprenditore agriculta, l'azienda di fame specializzata e al di divueta la produzione di melons. Pari di tre fils, nono di nuve nevoz e si è volti sbisavò. Alberto, clamatberto al fevele anch'emò Furlan e lo ha insegnato a tutte la fame. Il fogular Furlan della Gascogne gli ha organizzato un'ebiele fieste con tanti torte e chiandelis. Dalla Francia si spostin agli Canaris, dunque in coincidenza con la fiesta della patria e dal Friul, il regno è stato creato l'attività in tala provincia di Santa Cruz di Tenerife, dal fogular Furlan, dagli Canaris, al Centro Cultural dello Cristiano di Arona. Il fogular ha organizzato un'evento social con i patrocini dal Consolato Italian, dagli Canaris e dal Comites. Presenti il presidente Alain Friul Talmon, Loris Basso, adunque il presidente al fogular dagli Scanari, Stefano Degano, e con chelda la sede di Tenerife, Giampaolo Cocetta. Al curda l'inquintri, un'elezione storica su Chiauretta e l'occupazione austro-ognierese dal Friul, dalla prima Evoere mondiale, par cure di Maurizio Mior. E propri di Tenerife, non scrive il video salute ai partecipanti all'inquintri. Vole un gran plasere per l'infriuli del mondo essere con due miei amici. E festeggiamo sì la fiesta della nostra patria, Trederville, ma soprattutto la nascita di un nuovo fogular Furlan. Dopo che il canario, e che avendo il presidente Stefano Degano, parte un saluto dai Furlan. Un saluto a tutti i Furlan, di parte del fogular Furlan Canarie, la sezione di Gran Canaria, con tè di chi vuoi. E poi, Giampaolo Cocetta, che vuoi fare fiesta, per essere arrivati in queste isole, avete tantissima partecipazione e un bel fogular Furlan. Assolutamente, è una grande soddisfazione per noi altri. Io vi mando un saluto. Grazie per aver permittato a me e anche a tutti i furlanci di qua di fare parte di queste famiglie. E voi, proprio il 3 di avril, un grande saluto veramente alla nostra grande, grande patria. Più sulle patrie del Friul. Il presidente dell'ent Friul Talmon, Loris Basso e Giampaolo Cocetta, proprio di mattina e si sono chiatati col consul d'Italia a Arona, Gianluca Capelli Bigazzi, si è rancusi il viaggio da lenta, lì Scanares. Parus not, alle due, novi, staltorne domandi sere. Mandi e buine serade. Il presidente dell'ent Friul Talmon, Loris Basso e Giampaolo Cocetta,